Gentili telespettatori, buona giornata. Letta e la sua posizione diametralmente opposta a quella di Giorgia Meloni. Letta dice stoppa gas e petrolio russo, smettiamo di pagare e troviamo alternative. La Meloni dice sarebbe un caracchere, un suicidio. Giorgia Meloni non si era esposta fino a questo punto ma adesso lo dice chiaramente, per noi sarebbe un disastro lo stoppa il gas russo. Draghi ci dice ci sono scorte fino a ottobre però possiamo trovare delle soluzioni, ne prendiamo un po' qui, un po' là, un po' facciamo così, un po' facciamo cosa, dovremmo riuscire per ottobre a trovare delle soluzioni. Però è un dovremmo riuscire, non c'è una matematica certezza di poter sostituire completamente il gas russo. Sul petrolio secondo me sì, però. E così ci sono due visioni diametralmente opposte. Realmente sono i due partiti con più voti. Fratelli d'Italia, PD, Lega e Movimento 5 Stelle non è importante quello che pensano. Realmente sono due partiti in caduta libera, stanno precipitando nei sondaggi, hanno perso tutti e due 10 milioni di elettori la Lega e 10 milioni di elettori il Movimento 5 Stelle. Questi due partiti dall'inizio della legislatura hanno perso 20 milioni di elettori. Quindi diciamo che non fanno molto testo quello che pensa Salvini o Conte in realtà. È più importante quello che pensano i leader dei due principali partiti che mostrano una posizione diametralmente opposta. E qui non c'è niente di ideologico, non c'è bandierini di partito. Qui sono due leader che pensano autonomamente due cose differenti. Pertanto per Letta stop immediato di gas e petrolio e trovare delle soluzioni. Giorgia Meloni dice che prima troviamo le soluzioni e poi eventualmente, perché così non si può fare. La Commissione europea ha dato lo stop solo al carbone, semplicemente perché l'Europa ne può fare a meno del carbone. Non c'è nessun sacrificio sullo stop al carbone. Io penso, no, non è io penso positivo di Giovanotti, ma Letta dice che io penso che dobbiamo smettere di pagare la Russia. Perché con quei soldi sappiamo che cosa ci fa. E nella presentazione di un rapporto della Fondazione Fare Futuro. Il segretario del PD spiega che non ci sono alternative, bisogna che gli europei trovino una soluzione perché cessi questa drammatica contraddizione. Il vero tema è come gestiamo a casa nostra le compensazioni, perché è evidente che queste scelte coraggiose che dovremmo fare abbiano compensazioni, perché la nostra economia non abbia dei danni, perché è la Russia che deve essere colpita, non l'Italia e l'Europa. Non avendo disponibilità per sostituire le risorse energetiche provenienti dalla Russia, nell'immediato dovremmo prepararci a un razionamento energetico? Si chiede Letta. Razionamento, risparmio e razionalizzazione delle forme di consumo energetico si ponga in prospettiva futura, a prescindere dall'esito delle vicende. Risponde Letta. E tutto questo rende più urgente una scelta che secondo me va fatta rapidamente per far sì che il risparmio energetico diventi una delle fondamentali scelte che stanno davanti a noi. Quindi è fondamentale che ci sia un piano per il risparmio energetico. Ma risparmio energetico cosa intende Letta? Di abbassare i gradi del riscaldamento, di dire facciamo una sorta di razionamento, il gas te lo mando a giorni alterni. E l'elettricità non può essere a giorni alterni perché quello non è possibile. Il petrolio russo si potrà sostituire, su quello non c'è dubbio. L'unico problema più grave è quello del gas. C'è modo di sostituirlo immediatamente? Risparmio energetico, come si fa a risparmiare il 45% di gas? Non credo che la gente o le imprese utilizzino il gas così, tanto per fare. Credo che l'utilizzo del gas sia fatto da un'esigenza perché non credo ci sia qualcuno che accende così il gas tanto per dire che faccio, cioè accendo il gas. Ecco, quindi il risparmio energetico come lo fai. Per fermare questa situazione sicuramente sarebbe una misura efficace, ma è un tema complesso, dice Giorgio Meloni. Noi siamo in una condizione che rende anche per noi molto gravosa la situazione. Mi sembra che la misura sarebbe molto aggressiva anche nei nostri confronti e che l'Italia rischia di pagare tantissimo da una scelta del genere. Il tema, spiega Meloni, cosa intende fare l'Occidente sul piano della solidarietà per aiutare quelle nazioni. Se noi fermiamo le forniture di gas fra due mesi, chiudono le industrie. Questo non è un sacrificio, è un suicidio. Le cose serie si valutano sui dati e non sugli slogan. Quindi Giorgia Meloni fa capire, secondo lei, quello di Letta è uno slogan, non è una cosa reale che si possa fare. Però Draghi sembra possibilista per questo. Sembra proprio che l'idea di Draghi sia quella di capire se è possibile sostituirlo e poi agire di conseguenza. Naturalmente senza la soluzione o senza capire come poter sostituire il gas non credo che si possa staccare e dire a ottobre poi ci pensiamo. Siamo già quasi verso l'estate, l'ottobre arriva molto velocemente e poi che fai? Chiedi di nuovo di allacciare il gas? Non è che facciamo un altro contratto? Così ve lo mettono a dieci volte il gas. Se lo vuoi me lo paghi a peso d'oro. Eh, è così. Questo potrebbe essere poi anche il ben servito. Al prossimo rinnovo contrattuale cambiano le condizioni. Potrebbe anche la Russia dire, bene, al prossimo contratto ci deve essere scritto che tu mi paghi in rubli. Eh, no, non c'è ma. Mi paghi in rubli, punto e basta. No, io ti pago in euro. Allora compralo da qualche altra parte. Questa potrebbe essere la risposta. Quindi Giorgio Meloni dice no slogan, ma la realtà è che non si può fare in questo momento. Questo è quello che sta dicendo. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.